E questa mattina è stato sottoscritto al Viminale un nuovo protocollo della legalità dal Ministro dell'Interno Luciano Lamorgese e dal Presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Questa collaborazione su un tema importante come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rafforza l'impegno comune contro le infiltrazioni mafiose sia nell'economia che nel tutelare il sistema delle imprese. Il protocollo prevede controlli antimafia incrociati e garantiti anche da Confindustria di tutta la filiera economica e delle imprese titolari di lavori pubblici e delle aziende fornitrici e dei titolari di contribuzioni pubbliche. L'obiettivo è che il denaro venga schermato dalle organizzazioni criminali, ha commentato la Ministra Lamorgese. Un'azione molto concreta di prevenzione della criminalità organizzata, questo è il commento di Bonomi.